Gentili telespettatori, buona giornata sull'obbligo vaccinale paventato dal capo del governo della conferenza stampa di giovedì 2 di settembre. Il Movimento 5 Stelle ha dei dubbi sul votare o non votare eventualmente questo obbligo vaccinale. Certo se non lo votassero i 5 Stelle, la Lega e Fratelli d'Italia e magari altri gruppi parlamentari potrebbe anche Draghi non avere i numeri per fare quest'obbligo vaccinale. Ma il primo passo sarà attenzione quello di estendere il Green Pass, renderlo obbligatorio per tutti i lavori. Speranza dice l'obbligo vedremo sulla base e valuteremo sulla base dei prossimi numeri. Se i numeri sono in peggioramento probabilmente si farà. Quindi l'obbligo vaccinale sembrava un miraggio eppure all'improvviso Draghi è arrivata con questa notizia. Stiamo aspettando le varie certificazioni, poi quando arriveranno mancano pochissimi giorni, meno di una settimana. L'Italia potrebbe diventare il primo tra i grandi paesi europei a imporre per legge l'immunizzazione da Covid-19. Mario Draghi ha indicato la rotta. La maggioranza è spaccata, la Lega pronta alle barricate, ma ogni volta che sento quel nome le barricate mi viene anche un po' da ridere, perché barricate non le abbiamo mai viste realmente. Cosa saranno mai queste barricate? Mi viene in mente il barricate. PD, l'EU e Forza Italia sono favorevoli al vaccino obbligatorio. Il movimento in una posizione di mezzo, un mondo di mezzo, e dicono vediamo e prendete tempo Giuseppe Conte. Eppure a sorpresa, la posizione del nuovo leader 5 Stelle potrebbe spostare gli equilibri e contribuire a sgretolare il fronte del no, lasciando in minoranza eventualmente Salvini. Stefano Patuanelli pensa che la strada da percorrere sia il convincimento e spera non si arrivi all'obbligo. attenzione, il convincimento fino a un certo punto. Ci sono persone che hanno paura di fare il vaccino e ci sono persone che non ne vogliono sentir parlare per partito preso. Ci sono molti che hanno tutte delle teorie stravaganti, fanno tutti degli scritti lunghi così, cose senza fondamento. Ma insomma, diciamo che c'è una piccola minoranza che fa un baccano tremendo e sono anche estremamente aggressivi. Quella piccola minoranza che fa baccano sembra che sia una maggioranza, in realtà è una piccola parte degli italiani che però sui social fa baccano dalla mattina alla sera. Sono proprio agguerriti, ma chissà dove vogliono arrivare. Vabbè, questo non l'ho ancora capito, o meglio, forse ho capito perfettamente tutto. Ma quindi c'è una certa parte di persone che non le puoi convincere. Non sono da convincere. Quelli che c'erano da convincere si sono convinti. Ci sono quelli che non hanno paura e ci sono quelli che invece vivono nel loro mondo di complotti, cose strane e quelli non li convincerai mai, mai. Se vuoi far vaccinare quelle persone che non convincerai mai devi obbligarle, perché se no non lo faranno mai. Ammesso che sia necessario questo obbligo vaccinale. Bisogna vedere che cosa succederà da adesso in avanti. Il deputato Nicola Provenza in Commissione Affari Sociali ha presentato e fatto approvare un emendamento che circoscrive l'utilizzo del Green Pass. Diciamo che, ad esempio, è come un qualcosa che ho visto io. Ho fatto un video dove dico che l'articolo 32 della Costituzione dice che non si può obbligare le persone a un trattamento sanitario a meno che non si faccia una legge. La Costituzione è assolutamente chiara. Non si può obbligare una persona a un trattamento sanitario a meno che non ci sia una legge. Con una legge puoi obbligare la persona al trattamento sanitario. Dice questo. E mi scrivono tu hai letto solo metà dell'articolo 32. C'è l'altra metà che non hai letto, che dice questo, che dice quell'altro. Ah, santo Dio. Come si fa? Certe persone non le puoi convincere. Prima di tutto, per leggere un testo, che sia un giornale, un libro, un testo di scuola, una Costituzione, delle leggi, non tutti, non tutti possono discernere e valutare le parole di un testo. Le parole di un testo. Guardate. Articolo 32 della Costituzione. Ve lo provo a leggere tutto, così vediamo. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto all'individuo e all'interesse alla collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti del rispetto della persona umana. Quelli che a tutti i costi dicono che il Green Pass obbligatorio è incostituzionale e che l'obbligo al vaccino è incostituzionale, si sbaglia. L'obbligo al vaccino non è incostituzionale. L'articolo 32 lo dice. Io non sto dicendo se sono a favore o no. Vi sto dicendo che la Costituzione è decisamente chiara. La Repubblica tutela la salute, garantisce cura agli indigenti, nessuno può essere obbligato a meno che non ci sia una legge. La seconda parte dice che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti del rispetto della persona umana. Un vaccino obbligatorio non è una violazione del rispetto della persona umana. Perché proprio nella riga prima c'è scritto che un trattamento sanitario può essere disposto per legge. Quindi la Costituzione lo dice. Può essere disposto per legge. Non puoi obbligare una persona a fare un vaccino se non c'è la legge. Però se fai la legge la puoi obbligare. Questo è quello che c'è scritto nella Costituzione. Pertanto non tirate fuori interpretazioni soggettive assolutamente campate per aria. Perché bisogna dire che l'obbligo vaccinale è incostituzionale. Molti si inchino a vucca, come dicono in Sicilia. Tutto incostituzionale. Ma non sapete manco che è la Costituzione. Sto parlando a un piccolo gruppo di persone che si ostina a interpretare tutto a cavolo di cane. Ma insomma ci vuole anche un minimo di... che cavolo. Il testo è quello. In Italia si può obbligare a fare una vaccinazione. Che vi piaccia o no è così. È così. Punto e basta. Non c'è nient'altro. È così. Grazie a tutti e arrivederci.